Hai venuto un po' una situazione di un'area che è interessata a questa ordinanza, a questo punto, nel futuro. Sì, allora, queste ordinanze nascono sulla base di un'analisi molto attenta che il Comitato dell'Ordine della Sicurezza Pubblica ha fatto della situazione nel quartiere. Sono emerse delle problematicità, ovviamente, in quel quartiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi che le forze dell'Ordine, e qui parlo solo degli interventi fatti della Forza Polizia dello Stato, quindi Carabinieri e Polizia di Stato, negli orari tra le 19 e le 7 del mattino. Nel 2019, nel mese di luglio, sono stati fatti 56 interventi e ad agosto 70. Nel 2020, ovviamente, i numeri sono estremamente più bassi, ma rimangono estremamente particolari. Nel 2021, a luglio, 79 interventi, all'agosto 56 interventi. Nel 2022, il totale degli interventi nel primo semestre è di 295. Spesso, nella grande maggioranza dei casi, questi interventi sono interventi per problematiche che riguardano disturbo alla quiete pubblica, persone moleste, curatezza, quindi non per problematiche riguardanti l'Ordine e la sicurezza pubblica, ma per quanto riguarda situazioni di disturbo, di degrado, che correttamente vengono denunciate dai residenti e sulla base dei quali intendiamo adottare questi due ordinamenti. Per dare una risposta, noi abbiamo cercato di fare diverse iniziative. annuncio oggi che da domani, da oggi, il presidio di Lielopardi aumenta un po' la sua apertura, quindi resterà aperta per ora fino all'ora e venti. Abbiamo in mente poi altre iniziative riguardo al nostro personale a Polizia Locale per implementare ulteriormente i servizi, ma oggi penso che l'amministrazione comunale dia un segnale di finanza importante per i residenti per superare il loro diritto da un lato ad avere un riposo tranquillo e dall'altro a vedere diminuiti quegli episodi, di disturbi, di molestie, di degrado, di cui parlavo prima, che sono testimoniati nero su bianco dal signor Parfetto. Allora, questa è la situazione che stiamo vivendo. Le ordinanze, mi ricordo, da prima, da uguali, gli esercizi di somministrazione di elementi e di panne e l'altra, invece, riguarda il diritto di vendita di panne alcoliche e refrigerate da parte degli esercizi commerciali, perché siamo arrivati a questa decisione che per l'altro avevamo già preso nel passato e che abbiamo verificato la continua presenza di avventori e che sono volti da proteggionarsi e consumare le tante alcoliche e alimenti per portare a tenersi all'inforza locale fino a 30 ore, creando disturbo alla cliente pubblica. Questo disturbo alla cliente pubblica, significa che queste persone sono alterate psicologicamente perché hanno assoluto troppo alcoliche. quindi significa che non sono più responsabili di quello che fanno e quindi per evitare queste situazioni, che purtroppo non sono orari, ma ogni giorno si presentano, abbiamo deciso di mettere una misura, così per carnerare la diffusione e l'esercizio alla torre giù. perché si sa che negli esercizi commerciali l'acquisto della birra è molto più economica rispetto alla nuova ristorante dove il costo è senz'altro raddoppiato. Quindi in questo modo pensiamo di portare questo fenomeno. Nel stesso momento però invitiamo che la pubblicità diventa un reato perché non è contemplata come forma di misura per vivere all'interno della nostra società. Quindi dobbiamo fermare questo purtroppo brutto vizio che a due persone hanno e che ogni giorno praticano in vero se non è un reato pubblico e si è invitata a livello di questi due anni. La zona interessata a questi convenimenti è via Tullio, Piazza dell'Italia, Piazza della Repubblica, via Le Lombardi, via Perlito Croce, via Della Rosta, via Europa, via Europa Meta, via delle Ferriere, via Del Ureis, via Quanto Divo, via Caterina Perfotto, via Romero Patristi e via Roma. che è un po' il cuore in questo luogo tra l'altro ma anche a partire per davanti a noi su cui sapete quando io sono il terzo sindaco cerco di rivestinare una convivenza civile all'interno di questo territorio. Il risultato ne avevo già ottenuto, sono stati rispossuti dagli stessi abitanti e dagli stessi esercenti che abbiamo mangiato, però è necessario continuare con queste ordinanze che sono efficaci per contenere purtroppo questi fenomeni, fenomeni di pubriacchezza e del disturbo continuo perché queste persone poi stanno lì tutta la notte, gridano e si comportano interamente in una maniera consona a quella che la curie che è pubblica soprattutto per mettere a chi dorme di avere un imposo giusto e compagnoso. L'ordinanza ha due tipologie di orari domenica venerdì e sabato dalle 6 alle 24 eserzisti le mani di lavoratore si sente gli eserzisti vicinato tutti i giorni dalle 6 questo è l'orario per gli eserzisti cominciati cioè per chi minimale minimale dalle 6 la fattura dalle 6 del mattino alle 9 della sera poi devono chiudere qui ci sono tutti i minimali che vengono attraverso il mio negozio questa volta e questo per te questo porta al consumo di questo finale come sempre di fronte a questa ordinanza se devo fare un riconoscolo alla tribunale dell'administrativo regionale se si intiene che sia adesivo dei diritti dell'attività commerciale ma come è stato fatto per altre volte abbiamo avuto nessun ricorso in confronto di questa ordinanza adesso abbiamo la seguenza successiva la seguenza come abbiamo detto la vendita la sanzione va da 100 a 600 euro la seguenza che dice non viene a scegliere la carne però non è ancora in chiusura invece in cui si è rispetto alla fine della ministratura ci può essere anche la chiusura di questa questa nuova situazione non siamo come anni dietro la situazione è migliorata tuttavia è necessario ancora un maggiore controllo soprattutto da parte di alcuni soggetti e dire che acquisti di consumare alcolici che poi portano loro anche se lo sono di disturbo non capire che non sono un po' della città non so se stiamo andando e voglio raggiungere qualcosa rispetto agli investimenti che si potrebbero fare a farlo sapete che abbiamo anche una squadra di cani in stadoci no prima insomma cani però capite è vero anche loro per bloccare la diffusione delle sostanze sconfacenti che ancora assiste in questa zona sulla valenza portata dall'eominanza che ha provato il segno con l'assessore a come bene il strato in quanto riguarda la produzione locale noi dominamente abbiamo una patrugia in generante che gira il bordo abbiamo un persilio che viene garantito finalmente in 11 mattino del pomeriggio una sinotica siamo spesso a contrastare lo spazio che ci sono stati presenti e se possiamo di risultate ovviamente un'intanto è solo presente in la situazione pubblici quando c'erano le scuole c'erano anche il centro mondale però adesso diciamo che ci siamo abbastanza su quelli che sono finiti solo lo spazio nella zona di colpistazione quindi le aree che sappiamo essere presentati da che fanno attività nel loro modo di vivere ovviamente con l'assessore anche in tutto il giudato che lo mette il servizio non lo vado a sperare per queste parte siamo lavorati ma siamo arrivati perché adesso siamo con i sono erogliati ma sicuramente cerchiamo di adottare misure che contrastino questi comportamenti che per noi non vogliono fare la nostra attività e quindi frenare la del di la di la bene se i giornalisti hanno qualche domanda farci se non mi alza è in quella da questi sono i giorni per 30 giorni per 30 giorni per legge deve esserci un termine in sede di comitato il prefetto ha suggerito di rivederci prima della scadenza per fare tutta la situazione e rinnovare l'ordinanza come si fa normalmente per tutte le ordinanze pubblici via vicino senni con di rinnovare con senni in rinnovare con